Nella prossima bolletta che la società acquedottistica della Ruzzo Reti e S.p.A. sta inviando agli utenti, oltre alla classica fattura sarà legata anche una lettera con un messaggio da parte della nuova presidente della Ruzzo, Alessia Cognitti. Un documento il cui obiettivo è quello di informare e fare il punto della situazione degli ultimi interventi in materia di controlli sulla qualità dell'acqua proveniente dal Gran Sasso. In primis c'è il sistema di controllo che si chiama Early Warning ed è in grado di assicurare un allarme anticipato e di interrompere immediatamente l'ingresso dell'acqua con parametri sospetti nella rete idrica. Ci siamo adeguati in anticipo rispetto alle scadenze del piano di sicurezza delle acque, fa notare la presidente. Previsto dalla normativa comunitaria e nel contempo innalziamo i livelli di autocontrollo. L'acqua immessa in rete è sempre stata potabile, dato che ha sempre rispettato i parametri previsti dalla legge. Io mi sento di garantire sulla potabilità e sulla sicurezza dell'acqua del Gran Sasso, sempre controllata e oggetto di analisi. Sono sotto stretto controllo di Asle e Arta, a cui si aggiungono le analisi fatte in autocontrollo dalla Ruzzo. Per dare un'idea, nel 2017 e 2018 solo noi abbiamo fatto circa 4.000 analisi con 200.000 parametri. Dal 2017 abbiamo iniziato un corposo processo di potenziamento delle strumentazioni di monitoraggio con il supporto dell'Istituto Superiore di Sanità. Abbiamo strumentazione al top in tutto il mondo. A marzo sarà avviato anche il biomonitoraggio, sempre in collaborazione con lo zooprofilattico, basato sull'osservazione del comportamento di alcuni crostaci che vivono solo in acqua purissima. C'è infine il sistema delle vasche tornate, composto da sei enormi vasche. L'acqua del Gran Sasso si ferma nella prima, viene analizzata e solo se le analisi sono perfette procede nelle altre e viene immessa nella rete idrica. Un sistema che sarà operativo fra qualche mese. L'acqua è la risorsa più preziosa che abbiamo e resta sempre in cima ai nostri pensieri. Si conclude con questo messaggio la nota della Presidente della Ruzzoretti, Alessia Cognetti. Grazie. Grazie.